Lurine film che sicuramente non avevi notato parte 1 In Harry Potter è la camera dei segreti durante lo scontro tra Harry e Draco Si può vedere un cameraman che assiste alla scena In Jurassic Park quando i veloci raptor entrano in cucina Si può vedere una mano che tocca uno dei veloci raptor In Zootropolis quando Judy sta parlando al telefono sono le 8.40 Subito dopo lo gira e sono le 9.44